La più felice saggia la filosofia, sia quella che non è fatta a volte vedere, nell'attome doloroso le maggiori avversità. Compreso da questa massima, l'imperatore ne diceva oggi, passeggiando in fondo al giardino, che bilanciato ogni cosa, confrontato esiglio con esiglio. Sant'Elena era ancora per avventure il sito migliore, in un grado maggiore di letto dodini noi avremmo avuto a patire molto per i rigori dal freddo, e in cambio saremmo morti miserablemente sotto la sferza canicolare di qualsiasi voglia altra isola del tropico. La roccia di Sant'Elena continuava egliere senza meno sterile e deserta, insalubri e monotono il clima, ma bisognava confessare che la temperatura ne era dolce. La concessione lo condusse a domandarmi quali paesi tra l'America e l'Inglaterra sarebbe stato dei preferiti, nel caso noi fossimo stati lasciati vivere nella scelta. Al che io risposi che se l'imperatore avessi voluto vivere da filosofo di saggio, ma non la vita nelle dolezze delle quiete e lunghe dei trambusti della società, e la speranza degli affari li sarebbe stato misteri per porre l'Inglaterra. e non volendo restarvene dietro nella pittura, l'unsegnere che l'imperatore aveva fatto della nostra miserabilia roccia, io essi socciongeri che potrebbero succedere i tali avvenimenti, per quali Sant'Elene non fosse per essere il peggiori degli esili. Noi ce ne stavamo in disparte, io sicuro mentre la tempesta infiariva per gli altri, noi ci trovavamo fuori dal dominio della passione, circostanze propizie nei canciamenti possibili di un miglior avvenire. Era questo per fermo un grande desiderio di vedere in beni, io allontanavo l'orizzonte in tutta l'ampiezza delle immaginazioni, infrattanto per farsi una giusta idea dello stato del nostro esiglio e dei suoi vantaggi, ne fu detto in quel giorno stesso che noi dovessimo usare maggiore economia in parecchie nostre consumazioni e forse anche deforne il momentaneo sacrificio. Ci si disse a modo, ad esempio, che il caffè facevasse sempre più raro e che non tarderebbe, forse presto a mancare, da qualche tempo no? Noi non avevamo più zucchero bianco, tranne un piccolo avanso di pessima qualità esclusivamente riservato e l'imperador, e anche questo eravamo minacciati di vederlo presto finire lo stesso accade da altri oggetti di prima necessità. La nostra isola è una specie di navi velecianti sul mare, la quale scarseggia ogni cosa ovvi il viaggio, se alquanto lungo se vi si trovi un soffercchio di passeggeri. il nostro arrivo aveva bastato per affermare Sant'Eleno tanto più che le navi mercantili non vi possono ora più approdare. Direvessi che questo luogo è divenuto per essi una scogliera maledetta e temuta, ovvi non si sapessi che i fasciagli inglesi. Incrocichiamo appositamente per tenerli lontani, ma ciò che fra tutte le privazioni onde siam minacciati ci adolerebbe di più sia il manco di carta da serveri. Ci fu detto che dopo il nostro arrivo, ed erano già i scorsi tre mesi noi avevamo, essorito il deposito delle carte della colonia, lo che proverebbe quanto essa sia d'ordinario ma la provveduta, oppure che noi ne consumiamo al di là. D'oggi misura, la nostra sola famiglia dell'Hongwen ne conserebbe otto dieci volti al più di tutto il resto della colonia. D'oggi a questi materiali privazioni le nostre angusti fisiche e morali senza neppure godere i piccoli vantaggi dal sito, tolti a noi in gran parte dal capriccio altri. E' segno tale che ci viene recusato l'erba e i fogliami che cresciolno nelle altre parti dell'isola. L'armiralio aveva promesso all'imperatore che potrebbe passeggiare per tutta l'isola per chi potesse provvedere ad una sorveglianza la quale il prigioniero non riuscirebbe. a noi, minimamente molesta, si vedi che Alan, secondo prova, l'arberale aveva rotto l'assuntoso impegno. Un ufficiale giusto, i suoi ordini, pretendeva accompagnarsi con noi. L'imperatore rinunziò allora un po' ad ogni escursione e noi rimanemmo effettivamente separati dal consorzio degli uomini. La nostra vita animale è anch'essa delle più miserabili. Si è impossibilità di meglio trattarci, si, ma l'amministrazione è in proposito. Certo si è che trovassi estendo qualche cosa che sia appena mangiabile. Il vino è dei più cattivi. L'olio non si presta all'uso. Oggi ha detto che mannano lo succhiere è il caffè e che per noi l'isola è come patissi l'ecaristia. Si sa bene che vuoi si supporta tutto e che quanto ci viene somministrato basta tenerci in vita, ma pochi. Sì, sia l'aria di trattarci sontuosamente e ingenerare le persuasioni che, di nulla fattiamo difetto, ci troviamo costretti a lamentarci per le nostre pessime condizioni e per la privazione in cui versiamo delle cose più necessarie alla vita. Ovi se pensassi che il nostro silenzio fosse il tizio di appagamento, sappiasi almeno che la sola forza dell'animo è quella che ci regge e ci fa sportare i mali e le angustie di ogni maniera che lingua umana non saprebbe descrivere. Grazie. Grazie a tutti.